Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. L'inverno del 43-44 è disastroso per le squadre partigiane che operano in montagna. Se in autunno la loro consistenza aveva raggiunto anche i 100.000 uomini, nel pieno dell'inverno non ne sono rimasti che meno di un decimo. Le file partigiane tornano ad ingrossarsi in primavera anche per effetto dei bandi di reclutamento che la Repubblica di Salò reitera in febbraio. A nord-ovest di Genova, nei pressi del monte Tobbio, accanto all'antica abbazia medievale della Benedicta, si sono raccolti molti giovani sotto la guida del capitano dell'esercito, il genovese Giancarlo Odino. Nella notte tra il 5 e il 6 di aprile, prende tuttavia il via un'imponente operazione di rastrellamento condotta dall'esercito tedesco in collaborazione con la Guardia Nazionale Repubblicana, la milizia fascista. L'attacco costa la vita a 162 partigiani, mentre altri 187 sono fatti prigionieri e trasferiti nel campo di concentramento di Mauthausen il 16 di aprile. Tra di loro vi sono 5 calabresi, Luggero Condò di Reggio, Carmelo Marziota di Orso Marso, Italo Guerrazzi di Bovalino, Giovanni Loiacono di Palmi e Luigi Salerno di Satriano. I primi tre non vi faranno mai ritorno, perderanno la vita tra il febbraio e l'aprile del 1945. La tragedia della Benedicta ha distrutto il più importante raggruppamento partigiano alle spalle di Genova. Per questo i vertici dell'organizzazione Ligure, d'intesa con il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, affidano a Vito Doria, di San Vito sullo Ionio, il compito di riorganizzare la presenza partigiana nella Liguria di Levante. Il 37enne calabrese è rientrato da poco dalla Francia in Italia e è rientrato in maggio. La sua autobiografia, predatta a mano in francese, è stata pubblicata nel 2000 a cura di Nuccia Guerrisi e di Rocco Lentini. La mia vita nell'armè de Sombro è la straordinaria e raccombolesca storia di un uomo che ha partecipato alla guerra civile spagnola e evaso dal campo di concentramento di Vernet nella contea di Foix, aderito al Maquis, l'organizzazione della resistenza francese, prima di unirsi alla lotta di liberazione in Italia. Carlo, così Doria si fa chiamare, stabilisce a Torriglia, ai piedi del Monte Prelà, la sede del comando partigiano. La sua prima preoccupazione è quella di far crescere la formazione e in settembre, dopo l'aggregazione delle brigate Mingo e Matteotti, Carlo è ormai a capo di una divisione alla quale dà il nome Doria. La più eclatante, probabilmente, delle operazioni portate a segno dal comandante Carlo è la liberazione del personale dell'ex ambasciata italiana a Berlino, che era detenuto nel Forte di Gali. Con Carlo sono molti i calabresi. E tra questi Domenico Tripaldi, nome di Battaglia Ramon, di Roccella Ionica, un emigrato a Genova, a Genova San Pialdareno. Viene fucilato dai tedeschi insieme a due compagni il 27 luglio. È una rappresaglia per l'agguato subito da una squadra tedesca e avvenuto al mattino. Ma Ramon e i suoi due compagni non vi avevano preso parte perché erano appena usciti dalla infermeria partigiana di Rovegno dovevano stati curati. Il loro comandante, Aldo Gastaldi, detto Bistagno, pur fervente cattolico, deciderà di vendicarsi di questa uccisione, a sua volta giustiziando tre prigionieri tedeschi. Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, un migliaio, fra tedeschi e fascisti, partendo da Ovada, portano all'attacco alla divisione d'Orie. Tra i primi a cadere sono gli uomini della 6a divisione GL, giustizia e libertà, che sono stati posti di guardia in frazione bandita del comune di Cassinella. Tra questi uomini è Giacomo Manna, detto Mino di Crotone. Ma a perdere la vita al termine dell'operazione saranno in 25, non il solo Manna, compreso il vice comandante della divisione, Domenico Lanza, detto Mingo. Doria, che è già al centro di contrasti interni, sia pur latenti, è accusato di aver sbagliato tattiche dei militari ed è rimosso dall'incarico. Andrà a Milano, dove Pietro Secchia lo indirizzerà in Valla Sesia a combattere al fianco di Cino Moscatelli. L'Emilia è inizialmente meno interessata dal fenomeno della formazione di bande partigiane, anche a causa della scarsa presenza di strutture militari sul suo territorio. Il movimento resistenziale si dispiegherà in modo significativo nella primavera del 44, come conseguenza dei bandi di reclutamento della RSI. Ma non mancano, anche prima di allora, significative esperienze di lotta partigiana, che hanno origine dai circoli antifascisti presenti in tutte le principali città della regione. Tra i primi ad avvertire le esigenze di darsi una struttura militare sono gli uomini che si raccolgono attorno alla famiglia dei Cervi, nella oramai famosa cascina ai Campi Rossi di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia. E con loro Dante Castellucci, di Sant'Agata di Esero, rientrato dalla Francia dopo molti anni di emigrazione al seguito della sua famiglia. Nel suo paese ha conosciuto, perché lì era stato confinato, Otello Sarsi, componente di una nota famiglia di attori girofaghi e antifascisti. Otello introduce Dante ai Cervi e insieme a questi sarà arrestato il 25 novembre del 1943. Ma fingendosi francese, Dante riuscirà a sfuggire alla fuggilazione, che viceversa massacrerà tutte e sette i fratelli Cervi. Dante, che ha preso nome di battaglia Facio, riuscirà a riprendere la battaglia e in poco tempo, grazie alla sua intelligenza e alla sua audacia, diventerà uno dei più famosi comandanti partigiani in Lunigiana. La sua carriera sarà stroncata il 21 luglio, per mano dei suoi stessi compagni, al termine di una tragica vicenda che probabilmente non è mai stata del tutto chiarita. Nel Parmense, uno dei primi distaccamenti partigiani è il Griffith, nel quale milita Salvatore Carrozza, nome di battaglia Bibi, di San Martino di Taurianova. Emigrato in Emilia, probabilmente per sfuggire ai fascisti dopo aver bastonato Domenico Pavone, camicia nera della prima ora. Il 15 aprile, il distaccamento Griffith è sorpreso dalla milizia fascista in località Corno, alle pendici del Monte Montagnana. Cinque partigiani perdono subito la vita, gli altri sono trasferiti nelle carceri di Parma, e Bibi è tra questi, e condannata a morte dopo un sommario processo, verrà fucilato a Monticelli Terme il 18 di aprile. I partigiani di Parma, nella seconda metà di giugno, riescono a conquistare Borgotaro e a controllare così un'ampia zona a cavallo tra l'Emilia, la Liguria e la Toscana, il cosiddetto territorio libero del Taro. Il territorio del Taro verrà attaccato dai tedeschi il 30 giugno, e le operazioni si proterranno per più giorni. L'8 luglio, due partigiani, Gino Bozzia, detto Guelfo, di Borgotaro, e Vincenzo Enrico, detto Vitto, di Verbicaro, sono sorpresi e subito fucilati, mentre tentano di recuperare del cibo per il resto della brigata. Le salme di Guelfo e di Vitto, così amici in vita, sono custodite assieme nel sacrario partigiano del cimitero di Borgo Valditaro. Nel Modenese, la prima formazione partigiana è quella dell'avvocato Leonida Patrignani, esponente del Partito d'Azione. Patrignani prende il nome di Bandiera, in omaggio agli omonimi fratelli ed eroi risorgimentali, e raccoglie attorno a sé circa 30 uomini. Con questi uomini si porta in montagna, a pieve di Trebbio di Guiglia. Il 12 marzo, però, a causa di una delazione di una spia fascista che probabilmente si era infiltrata nella formazione, Bandiera e i suoi sono attaccati da più parti. Patrignani riuscirà tuttavia a riportarsi a valle con la maggior parte degli uomini, ma tra i caduti risulterà Ottavio Ferraro di Palizzi. Ancora a Modena, un gruppo di 15 agenti ausiliari della Questura, tra i quali Tullio Tripodi, di Oppido Mamertina, decide di disertare e di raggiungere in montagna i partigiani della cosiddetta Repubblica di Montefiorino. Sono accreditati dal Comitato di Liberazione Nazionale di Modena, ma nonostante questo il comandante Nello Pini, un uomo violento e sospettoso, li fa fucilare. Per questa incredibile scelta, Pini sarà a sua volta processato e fucilato dai partigiani il 31 luglio.